Il 13 aprile 1944 una vasta operazione comandata dai tedeschi a cui parteciparono truppe nazifasciste investì il casentino. Ottant'anni dopo anche nel territorio di Bibbiena studenti, associazioni e istituzioni commemorano le vittime civili delle frazioni di Partina e di Moscaio. Ringrazio chi ci ha fatto vivere questo momento di elevata commemorazione, ringrazio sempre chi ci dà le opportunità di riflettere perché come sostengono i miei ragazzi e io vi parlo con un loro pensiero, non con un mio pensiero perché sono un'adulta, è nel passato che affondano le radici del presente. Di conseguenza bisogna conoscere per non dimenticare, per ricordare sempre e per non incorrere negli stessi errori. A Partina, il 13 aprile, furono gli italiani a compiere i primi atti di barbarie. Furono loro che indossando un'uniforme tedesca guidarono le SS. Tutto cominciò quando una battuglia di repubblichini, spacciandosi per partigiani, si presentò in casa di Angelo Cerini, che in paese fungeva da guardia comunale. Chiesero al Cerini di essere messi in contatto con collaboratori partigiani perché dovevano mandare in montagna materiale bellico. Il Cerini cadde nel trenello. Il nostro compito, che è il compito non solo dell'Ampi spero, ma anche dell'istituzione e poi di tutti noi, è ricordare quei tempi. Con quello che ci sta avvenendo incontro, insomma, qui con le guerre che scoppiano un po' da tutte le parti, bisogna tenere le orecchie ritte. Veramente, quindi io penso che gli insegnanti abbiano proprio toccato le corde giuste. Teresina era una giovane ragazza di 21 anni, la terza figlia di quattro. Un giorno, il 13 aprile, quando iniziò la strage a Partina, molte famiglie vennero fucilate in casa, altre morte in un bombardamento. Tutta la sua famiglia, invece, assieme ad altri gruppi di persone, vennero rinchiuse nella chiesina del paesino. Lei, però, per aiutare un bambino con il piede incastrato sotto una maceria, rimase indietro, non fece in tempo ad entrare. E quindi morì vicino a un bombardamento perché una scheggia le volò addosso, uccidendola. Molti dei loro familiari sono stati coinvolti in quello che è successo qui a Partina e al Moscaio. E' importante, effettivamente, perché la nostra classe, la mia classe, ha dato, per scontato, certi tipi di cose. Cioè, la libertà conquistata, sì, faticosamente, però non è così. La libertà, come diceva Calamandrei, va tutti i giorni conquistata. E soprattutto, non scondarsi mai che ci è costata veramente una guerra civile. Noi, per Eccidio, intendiamo un'uccisione di massa, uno sterminio. Questa è una strage contemporanea di un grande numero di esseri viventi. Grazie. Grazie. Grazie.